Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un martedì variabile sulla Liguria e specialmente sul Levante Ligure, con qualche possibile debole fenomeno sparso. Altrove invece c'è l'iserenio parzialmente nuvolosi, la ventilazione a tratti sostenuta, con Merligure localmente mosso e in particolar modo a largo. Nel dettaglio ora la provincia d'Imperia ci attende un martedì di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni. Sulla provincia di Savona invece aumento della variabilità, con qualche possibile debole fenomeno sparso. Sulla provincia di Genova invece cieli in prevalenza nuvolosi, con deboli fenomeni sparsi, e sul Tigulio situazione pressoché analoga, con cieli in prevalenza grigi e qualche possibile debole ed occasionale piovasco. Tempo a tratti instabile invece sullo spezzino, con fenomeni più diffusi. Ci attende un mercoledì, con tempo ancora a tratti instabile sul Levante Ligure, con qualche fenomeno localmente a carattere temporalesco sullo spezzino. Altrove invece cieli sereni o parzialmente nuvolosi. La ventilazione ancora a tratti sostenuta, con Merligure localmente mosso e in particolar modo a largo. Temperature massime, senza particolari variazioni. Dettagli maggiori ed approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.